In diretta a Sanremo Giovani, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi annunciano i campioni del Festival 2019. In totale sono 22 coloro che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 nella categoria dei Big, 11 verranno annunciati questa sera ed 11 domani sera, nel corso delle due finali dedicate alle nuove proposte. I 22 Big si aggiungeranno i due vincitori di Sanremo Giovani, uno per serata, ufficialmente in gara nella competizione del prossimo febbraio.I campioni vengono estratti attraverso un bussolotto, sul palco a partire dalle prime esibizioni dei giovani. I primi tre artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019 sono una donna, un uomo e un gruppo musicale. Si tratta di Paola Turci, Simone Cristicchi e del gruppo Rock Zen Circus.L'estrazione continua con i successivi due nomi, due conferme la presenza di Loredana Bertè con la canzone Cosa ti aspetti da me e la presenza di Anna Tatangelo ma senza Achille Lauro, come inizialmente vociferato in rete. Si continua con due giovani rama, vincitore di Amici di Maria De Filippi, ed ultimo, vincitore in carica delle nuove proposte. Punto a Sanremo 2019 due grandi ritorni Neck e il volo. Spazio all'Indie con Motta e al Rap con Gaemon.I campioni del Festival di Sanremo 2019 Paola Turci con l'ultimo ostacolo Simone Cristicchi con Abbi Cura di Meze e Circus con L'amore e una dittatura. E Anna Tatangelo con le nostre anime di Nutte Loredana per te con Cosa ti aspetti da me e rama con La ragazza col cuore di latta.Uttimo con i tuoi particolari. Vincitore delle nuove proposte nel 2018 Neck con Mi farò trovare pronto Motta con Dove l'Italia e il volo con Musica che resta Gaemon con Rose e Viola e Inav. Vincitore Sanremo Giovani a Federica Abbate va il premio della critica per la canzone Finalmente.Si chiude l'annuncio dei primi 12 dei 24 artisti in gara nella categoria dei campioni al Festival di Sanremo 2019, in scena da 5 al 9 febbraio. 11 sono i big italiani, 1 è il vincitore della prima serata di Sanremo Giovani.La classifica di Sanremo Giovani prima serata, 20 dicembre 12, Simo 11, Diego Conte 10, Federic Seflonove, Uepro 8, Fosco 177, Marte Marasco 6, Rose 5, Giulia Mutti 4, Andrea Biagioni 3, Federica Abbate barra de schema 2, Federica Abbate barra de schema 1. E Inav vincitore, partecipa al Festival di Sanremo 2019 con i campioni i primi 3 classificati Federica Abbate, de schema e dei narvincono la possibilità di partecipare.